Il balneare comunque quest'anno è stato baciato da questa stagione finora molto molto buona, però i dati che più impressionano sono proprio quelli degli ingressi ai musei, degli ingressi alle valli e delle visite in barca e in bicicletta. Insomma non è scontato con temperature che a volte arrivano anche ai 40 gradi, quindi avere comunque tanta domanda segno che insomma il prodotto parco non soltanto nelle stagioni diciamo così dove il clima aiuta di più come quelle della primavera slow quindi come maggio come settembre ma anche in piena estate rappresenta per i nostri turisti che vengono al mare un'opportunità in più quindi non soltanto mare ma anche per l'appunto cultura e ambiente.